Ragazzi, finalmente The Day Before è in arrivo. Esce giovedì 7 alle 18 ore italiane. Noi lo stavamo aspettando da anni, quindi lo porteremo venerdì in live. Un survival game, come piace a me. È vero, ci sono state delle critiche, dei dubbi, ma noi vogliamo provare lo stesso. Quindi noi venerdì mattina saremo in live in questo gioco. Se tanto vuole tanto, io mi ci perderò, ok? Vogliamo dargli questa possibilità? Secondo me vale la pena, un MMO, ok? PVP, PVE. Puoi costruire la tua casa, puoi andare fuori a fare risorse, come vedete potete fare il vostro personaggio. Insomma, io sono galvanizzata al massimo, non vedo l'ora di provarlo, non vedo l'ora di perdermi. Io vi aspetto in live su Twitch venerdì mattina per vedere, per provare e per parlarne insieme. Quindi ragazzi, io non so voi, voglio sapere cosa ne pensate e quindi se volete ne possiamo anche discutere. Spettacolo ragazzi, non vedo l'ora di questo gioco. A venerdì ragazzi, su Twitch. Vi lascio il link qua sotto. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao.